Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a serie sulla moda e la vita reale nello scorso episodio abbiamo assieme al nostro amico Lamar usato una Nissan Silvia per driftare in delle piste veramente assurde ad esempio su una portaerei ed è stato veramente divertentissimo ma ragazzi in questo episodio innanzitutto abbiamo una novità è vero abbiamo una novità perché sono andato al negozio e ho comprato niente meno che un Samsung S7 ok qua ci sono dei messaggi guardate un Samsung S7 mi pare Edge dovrebbe chiamarsi così e guardate non è affatto fatto male rispetto al telefono che avevamo prima è molto molto meglio guardatelo anche nella mano è bellissimo inoltre seconda cosa ragazzi quello che faremo oggi sarà far muovere un po super perché il veterinario ci ha detto che ha bisogno di muoversi dopo che è successa quella cosa con la zampa e soprattutto dopo che è stato messo sotto da un veicolo e si è ripreso piano piano ragazzi sono molto contento di vederlo ancora attivo sveglio e soprattutto con la voglia di uscire direi che quello che facciamo è un'escursione che ne dice super io vedete mi sono preparato uno zaino enorme pieno di cose c'è una borraccia c'è un lettino dovessimo perderci o comunque dovessimo decidere di rimanere lì la notte e poi anche altre cose che ho messo nello zaino per il campeggio ovviamente non andiamo in campeggio andiamo a fare una bellissima camminata in montagna su 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 e probabilmente torneremo tardi o comunque ci metteremo un bel po quindi lì lì e lì della cuccia e invece Anna è naturalmente al lavoro purtroppo lei deve sempre lavorare noi diciamo che facciamo su e giù tra i lavori e vabbè comunque entriamo nel garage ragazzi ok ragazzi eccoci qua che bello ovviamente il nostro veicolo bellissimo mi sta piacendo un sacco ragazzi il range of wood aspettate che mettiamo dietro le cose ok prima usciamo però prima usciamo ok eccoci qua aspettate un secondo ragazzi che con lo zaino non si può assolutamente guidare anzi prima di tutto si si facciamo questo apriamo dietro il bagagliaio prima di tutto e soprattutto mettiamo super all'interno del veicolo che adesso è rimasto ancora nel garage ok ecco fatto bene 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 quindi adesso ragazzi mettiamoci in una posizione abbastanza comoda per poter utilizzare ok il porta bagagli benissimo adesso apriamolo e mettiamo magari questo zaino all'interno e ragazzi così possiamo trasportarlo facilmente ok ecco fatto benissimo chiudiamo il porta bagagli bene benissimo ottimo ragazzi quindi adesso siamo finalmente pronti per andare assieme a super a fare una bellissima passeggiata in montagna una bellissima giornata una gita ecco prendiamola come fosse una gita allora innanzitutto il punto in cui vorrei andare naturalmente in cima alla montagna più alta di Los Santos della Contè almeno è lo stesso posto ragazzi non so se vi ricordate dove noi siamo andati a fare snowboard quando era inverno non so se ve lo ricordate comunque la strada che faremo a piedi sarà praticamente questa cioè cercheremo di fare questa strada o questa adesso vediamo bene quale a piedi a ritorno ed è quello che voglio provare a fare anzi no aspettate ho un'idea migliore facciamo questa strada facciamo questa che non l'abbiamo mai fatta quella la conosciamo invece qua c'è un laghetto vedete che io sinceramente non ho idea di dove sia quindi che ne dite di arrivare fin qua parcheggiare trovare parcheggio e poi dato che è tutta automatizzata autostrada e poi magari vediamo se qui c'è qualcosa di interessante in giro per questa zona magari una camminatina un po più breve no perfetto pronti si andiamo aspetta che devo fare inversione perché ah no non devo fare inversione ha cambiato idea lui perfetto quindi ragazzi adesso direi che è un bel viaggetto perché sono 7 chilometri di autostrada ma magari saltiamo un pezzo sicuramente una buona parte vediamo poi se ho qualcosa in mente da dirvi innanzitutto guardate siamo noi e super che in questo veicolo è veramente molto molto largo sta molto molto bene e niente a dopo ragazzi sapete una cosa una cosa bellissima qua stanno costruendo sistemando il cartello bello comunque ragazzi quello che voi volevo dire appunto è che una giornata del genere che è una giornata lavorativa in cui la gente va in ufficio eccetera eccetera è la giornata perfetta per andare in montagna perché come vedete il traffico non è eccessivo è molto scorrevole e si può fare questo è molto molto importante mancano ormai 3 chilometri e mezzo e siamo arrivati finalmente al punto in cui voglio andare assieme a super a fare qualcosa di interessante però guardate anche in una giornata così l'autovelox guardate un po' l'autovelox c'è un agente dell'fbi sembrerebbe con un autovelox pronto a prenderci la velocità quindi rallentiamo magari un po' cerchiamo di mantenerci sui a quanto siamo 57 58 cerchiamo di mantenerci sui 55 dovrebbe andare bene oh oh amico che stai facendo cavolo avete visto mi ha tagliato la strada come se fosse non lo so come se non fosse niente oh mio dio qua oh cavolo lasciamo stare andiamo avanti ragazzi non ho voluto vedere quello che è successo ma mi pare che si sia schiantato un elicottero e c'era pure un morto ok ci siamo cape catfish a destra non è la prima volta che ci veniamo a cape catfish non mi ricordo qual era l'occasione vi ricordate ma non era la prima volta eccoci qua siamo arrivati lo santo spaletto bay vedete ci sono altre persone che fanno escursionismo qua apparentemente non siamo solamente io super molto molto bella come cosa quindi direi di parcheggiare magari il range over qua che ne dite lo lasciamo qui sembra un po' pericoloso ma proviamo a lasciarlo qua che anzi aspettate che apro dietro che così prendiamo lo zaino e soprattutto super esci che andiamo dai ok eccoci qua allora appena passato il treno guardate che figata il treno bellissimo è sopra di noi comunque fatto benissimo ora ragazzi super dove sei eccoti qua seguimi andiamo dai facciamo una bella camminata si è già perso in mezzo ai cespugli no eccolo qua quindi lasciamo il veicolo là e iniziamo ragazzi questa che dovrebbe essere un bel sentiero vedete che ci sono altre persone che stanno camminando al momento e non sarebbe male riuscire ad arrivare fino in cima o fino a quel laghetto che abbiamo visto nella mappa lì sarebbe veramente una figata ragazzi quando si fa una camminata del genere in montagna è molto rilassante ma ci dà anche il tempo di pensare alla nostra vita perché possiamo parlare del fatto che Sara non la vediamo praticamente da non so quanti mesi o settimane quindi questa è veramente una promessa che di non rivedere Sara che mi ho mantenuto almeno per ora nonostante all'inizio sembrasse che la dovevamo vedere continuamente da quando è finita tutta la storia ragazzi del dell'esplosione di tutto quello che è successo non abbiamo più visto Sara per fortuna spero stia bene ma comunque sia spero che si sia anche rifatta una nuova vita ma non lo posso sapere per quanto riguarda invece le nostre macchine la prima l'auto familiare che è il Range Rover è veramente un acquisto secondo me incredibile e dobbiamo ancora decidere qual è il secondo veicolo da prendere al posto della Jaguar e so già che cosa prendere so già che cosa voglio ragazzi quindi lo compreremo in uno dei prossimi episodi probabilmente ah direi che non sto qua a parlarvi della mia infanzia quello lo riserveremo per un altro episodio Anna sta benissimo ah a proposito ecco che cosa volevo dirvi ragazzi dobbiamo fare la proposta di matrimonio ad Anna lo dobbiamo fare assolutamente vi ricordate l'abbiamo già fatta ma era troppo presto e lei ha detto di no adesso invece dobbiamo fare quella seria in cui probabilmente lei non può non rifiutare dato che ci ha chiesto più tempo per decidere se eravamo la persona giusta non abbiamo litigato mai gravemente a parte lievi litigi e secondo me è la persona giustissima per noi guardate che figata ragazzi siamo arrivati in una specie di campeggio con le tende a parlare non ci siamo neanche accorti che abbiamo già fatto un bel pezzo guardate qua che bello che è non so perché ma le macchine ci possono arrivare apparentemente perché vedete c'è una specie di c'è un Toyota lì quindi abbiamo seguito questi tizi che apparentemente eccole qua sono due due donne due ragazze si può andare ancora più su immagino ma questa probabilmente è una meta uh guardate ci sono altri cani che figata bellissimo altre tende cani un focherello questa è veramente una cosa bellissima e poi è segnato anche il sentiero che eccolo qua che sale ancora più su e possiamo arrivare fino alla cima probabilmente saliamo ancora più su su perché ne dici qua ci vengono ogni giorno e non oso immaginare il sabato e la domenica quanto è pieno di gente come fare la proposta di matrimonio ad Anna avevo pensato alla stessa identica maniera della prima volta perché lei era piaciuta ma ci ha detto di no quindi non sono sicuro di rifarla ma ho visto che esiste una bellissima casetta in montagna ragazzi incredibile ancora più bella di quella che con cui avevamo fatto la proposta la prima volta anche se probabilmente questa che ho visto io adesso non ha la stessa vista mozzafiato ma uh guardate da qua invece che bello in ogni caso si può fare lì la proposta e sarebbe sarebbe molto molto interessante oppure semplicemente fare qualcos'altro fatemi sapere nei commenti se avete qualche idea straordinaria come le solite vostre ragazzi che mi trovo spesso ad essere d'accordo con voi soprattutto un'idea che mi ha dato un ragazzo su telegram è molto molto anzi su instagram mi pare è molto molto interessante infatti probabilmente forse la potremo implementare comunque uh si sta facendo abbastanza faticosa qui la salita devo ammettere guardate ah ok vediamo se riusciamo ad arrivare fino alla cima se no al massimo ci fermiamo a metà che ne dite comunque guardate come hanno fatto bene il sentiero con il legno dove di solito si scivola la staccionata per non far cadere le persone bellissimo super ce la fai direi di sì e soprattutto più saliamo e più la vista è mozzafiato avete visto ok ragazzi siamo arrivati ad una specie di non so una cosa radiofonica immagino come vedete ci sono tante parabole c'è una torre mi sono fermato perché guardate qua ragazzi che vista che c'è qua si vede tutto il deserto si vede probabilmente anche dove lavoriamo noi forse se guardiamo abbastanza attentamente ci sono tutti i campi qua e soprattutto c'è il lago quello enorme l'alamo sì c'è un tizio qui che che con lo stesso nostro zaino che sta facendo una fatica mortale per salire sopra ti capisco amico ti capisco quindi avanziamo verso il lago vediamo se super mi sta dietro sì bravo super sta anche corricchiando mi sorprendo che sia così in forma in realtà però eh sì decisamente ci tocca scendere ragazzi guardate fa impressione perché si vede sotto il mare dalla montagna e sembra che cadiamo e ci possiamo tuffare che figata ragazzi è la cosa più bella correre in discesa cioè più di salire di sopra anche super si sta divertendo guardatelo giù dalla montagna andiamo giù dalla montagna me la sono inventata non è una vera canzone montanara mi dispiace mi dispiace ragazzi se non ne conosco una qua tagliamo direi di tagliare che si può eccolo qua lago oh mio dio ragazzi veramente non ci sono mai stato ma com'è possibile che non ci sia mai stato vi giuro non l'avevo mai visto questo lago ma che lago è super vieni qua guarda che figata che è il lago là sotto adesso ci andiamo e vediamo se c'è qualcosa di interessante lì 17 59 sono già le 18 oh mio dio ok abbiamo fatto abbastanza tardi a parte che ci siamo svegliati tardi stamattina ma guardate ragazzi che posto naturale ogni tanto ci vuole andare nella natura ok ora dato che sono già le 18 direi che sarebbe meglio risalire sulla montagna perché se no potremmo trovarci con il buio in montagna non è non è la cosa migliore guarda super ti piace sto posto guarda che figata bellissimo eh direi che ci vediamo una volta che siamo sulla cima poi da lì vediamo che cosa fare ok ragazzi eccoci qua siamo quasi fino alla larice trasmittente uff che fatica però dovremmo quasi esserci eccoci qua quindi siamo in tempo per il tramonto mi sa di no che ormai è quasi anzi si siamo in tempo per il tramonto guardate lì adesso ci aspetta una discesona che ore sono sono già le 20 e 25 vediamo quanto tempo ci mettiamo a rifare di nuovo la discesa tutta intera ragazzi vediamo ok ragazzi bruttissima notizia è venuta è venuta la notte qua purtroppo non ci sono luci non c'è illuminazione il che non so se neanche voi riuscite a vedere si vedono solamente le luci della città in lontananza guardate ma purtroppo dovevo portarmi una torcia e mi sa che anzi aspettate forse ce l'ho una nello zaino mi sa che non l'ho portata diamine non so neanche se posso usare il telefono per fare luce purtroppo siamo rimasti incastrati sulla montagna e speriamo di non farci male oh non vedo assolutamente dove sto andando non vedo assolutamente dove sto andando e spero di stare andando nella parte giusta ma credo che credo che il sentiero sia questo ragazzi non c'è non c'è altro da dire super ci sei si ok super oh perché abbaglia super guardate vi giuro che mi sto pure spaventando perché ci possono essere del ok cosa abbai super basta abbagliare ci sono delle specie di buche qua come vedete e purtroppo mi sa che le prendo basta ragazzi ho visto qualcosa in mezzo a quei cespugli non ho paurissima che ore sono oh mio dio è l'unica luce che ho quella del cellulare che roba diamine è ragazzi ma che cosa sta succedendo qua oh mio dio super basta abbagliare che mi metti ancora più paura ma che diamine è quella roba sembra una specie di persona che sta piangendo no ragazzi sembra marco vi giuro sembra marco identico è un uomo o non è un uomo perché quando mi giro scusi scusi salve signore oddio è veramente marco ragazzi guardate che diamine è sta cosa oh 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 via 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 che diamine ok è scomparso ragazzi è scomparso sembrava sembra pensavo fosse una specie di tipo un effetto prima poi poi mi sembrava una persona anzi all'inizio con una torcia e mi sono avvicinato poi mi sembrava una oddio era marco era marco vi giuro l'ho visto ok non so se non so se è perché ho faticato tanto oggi e ho paura e magari ho visto un'allucinazione sicuramente un'allucinazione ragazzi non so se ho visto bene scappo sto scappando più velocemente possibile non so neanche se sono giusto nel sentiero ma chi se ne frega cerchiamo di andare a valle senza morire il più velocemente possibile ragazzi probabilmente voi non starete venendo assolutamente una ceppa perché io non vedo assolutamente una ceppa ma quello che ho visto l'ho visto anche bene purtroppo ok 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 ci siamo ci siamo eccolo qua arranger over eccolo qua torniamo in macchina assolutamente ragazzi non mi interessa nulla dello zaino non mi interessa nulla di niente accendi le luci super ci sei ci siamo tutti andiamocene via da questo posto ragazzi non so se ci tornerò mai più ok probabilmente è stata un'allucinazione mia dovuta alla stanchezza immagino ma non ci voleva sono pure in riserva sono pure in riserva vi rendete conto non c'è civilizzazione non c'è una luce neanche a pagarla oro ok sono quasi finito fuoristrada non so dove di diamine sia finito ma qua c'è un po' di luce quindi direi di sistemarci qui grazie a tutti della visione mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto soprattutto iscrivetevi è molto molto importante in descrizione c'è il link per il giveaway che sto facendo il giveaway in cui potrete vincere un gioco gratuitamente e la notizia più importante di tutte ragazzi è che sto cercando di accorciare i video e soprattutto di cambiare calendario quindi non so se avete visto sul canale telegram ma ho fatto un sondaggio se vi va bene il calendario così com'è o se volete più video e ovviamente devono naturalmente essere più corti quindi sto cercando di portare a video più corti in modo che poi potrò provare a fare un video al giorno fatemi sapere se questa notizia vi potrebbe piacere un video al giorno di cui 3 della vita reale a settimana e il resto dei giorni tranne la domenica altre serie tipo i zombie lspdfr e così tutte le serie hanno un giorno più o meno della settimana grazie ancora ragazzi in descrizione c'è anche il link per seguirmi su facebook e instagram e il canale telegram per sapere tutte le news e inoltre in descrizione c'è anche il link per la mia maglietta e la mia felpa ufficiali detto ciò ragazzi grazie ancora arrivederci aspettate fatemi capire come funziona questo rimorchio qua dietro aspettate fatemi sapere